Nel Basso Salernitano, in silenzio, si sta edificando un percorso turistico di nicchia, rivolto ai curiosi e agli amanti dell'arte, quelli che quando devono scegliere un luogo per la vacanza si orientano verso mete in cui possono incontrare la storia e le opere dell'artista che apprezzano o di cui hanno sentito parlare o letto sui libri di scuola. In questa rete turistico-culturale rientra il MUM, acronimo di Museo Ugo Marano, un museo allestito in un'antica ferriera ristrutturata di Morigerati, nato da un'idea del professor Pasquale Persico e dedicato al grande artista della costiera amalfitana scomparso nel 2011. Entrare in un posto come quello della ferriera significa un po' uscire allo stesso tempo dal luogo comune della visita di un territorio che invece può essere più scontata e ancorata a cliché completamente diversi, un po' più consumistici e lì la ferriera, oltre ad ospitare questo museo concettuale che poi rimanda, esplosso sul territorio, rimanda alle opere di Ugo, alle tracce di Ugo sul territorio. In realtà è un luogo magico questo stesso perché è il luogo di fluire delle acque, delle acque interne del Cilento. In questi giorni il MUM è stato visitato da una studentessa dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze che sta preparando la tesi sull'umanesimo di Ugo Marano. Per lei è stato fondamentale visitare uno dei luoghi che raccontano l'artista, luoghi che lo stesso artista ha visitato durante le sue tappe nel Parco Nazionale del Cilento e Vallodidiano. Mi ha colpito più nella sua storia, è proprio quello che racconta e esprime la sua arte. Cioè la sua arte è l'espressione più vera, più autentica dello pensiero e dello spirito di questo uomo. Al termine della visita al MUM, Silvia Pallini ha messo in mostra all'interno del museo una sua opera.